Ciao ragazzi e benvenuto a una video recensione di App Video Review Oggi voglio presentarvi dei supporti molto particolari per i nostri iPhone si chiamano gli iBand, li trovate tranquillamente sul sito www.myiband.com e sono dei supporti molto simpatici, come vedete sono composti da questa diciamo con queste custodia in cartone con dei disegni bizzarri sicuramente sopra e ci sono all'interno, come potete vedere, questi due supporti vi dico sempre che questo è per il 3GS quindi non riuscirò a cancellarlo perfettamente con il mio iPhone 4 ma cercherò comunque di mostrarvelo nella maniera migliore possibile come vedete sono molto inusuali rispetto allo standard dei supporti da tavolo per i nostri iPhone e iPod ma sono veramente portatili tra loro nel senso che veramente, ve li faccio vedere, ne stacco uno eccolo qui, ecco qui è praticamente una sottilissima foglia di plastica che va piegata in questa maniera per poi dopo poter appoggiare il nostro iPhone o iPod ci sono veramente tanti disegni che lo compongono questo è uno per esempio e qui ce n'è un altro nella confezione che vi sto mostrando ah, volevo farvi notare anche che c'è chiaramente le spiegazioni anche se in inglese su come andrà effettuato l'appoggio del nostro iPhone o iPod che sia ma sono veramente divertenti perché comunque non sempre vengono trovati questo tipo di supporti ma andiamo adesso a vedere come andrebbe vi ricordo che questo è per l'iPhone 3G mentre io ho un iPhone 4 quindi non si aggancia perfettamente ma insomma comunque rende l'idea di quello che è il supporto ecco qui come potete vedere semplicemente un attimino vediamo se riesco ad agganciarlo prima c'era riuscito tranquillamente poi purtroppo, vi ripeto, essendo stato strutturato per il 3G ecco qui come praticamente viene basta piegare questo supporto per il nostro iPhone per poterlo portare poi dopo così in posizione orizzontale vedere un film, leggere qualcosa, tranquillamente quindi o ascoltare semplicemente la musica come vedete è un supporto semplicissimo molto comunque sgargiante nei colori ed è divertente chiaramente è qualcosa che può piacere o non piacere ma devo dire che comunque l'idea per me è originale purtroppo non essendo stato quello inviatomi per il modello del mio iPhone chiaramente mi crea qualche problema nell'aggancio perché se andiamo a vedere bene ecco qui le forme di intaglio seguono perfettamente la scocca del vecchio 3G sappiamo che comunque ce ne sono anche per iPhone 4 e quindi sicuramente questo problema di aggancio perfetto non ci saranno assolutamente problemi quando poi dopo andremo a prendere quelli per iPhone 4 questo è quello che io vi volevo oggi mostrare vi ricordo ce ne sono tantissimi vi consiglio comunque di visitare il sito del produttore stesso questo che vi vado a ripetere www.iband.com e questo tipo di supporti si chiamano iBand molto diciamo semplici veramente molto semplici ma che comunque possiamo portare con noi ogni volta che vogliamo anche dentro al nostro portafoglio detto questo io vi saluto e vi ringrazio di averci seguito ancora una volta e vi ricordo di seguirci sempre sul nostro canale di YouTube e sul nostro blog ciao ragazzi